Seguaci dell'ente della tutela paypal Dei dei... Sì paypal buona Per i pal Aspetta Cazzo sta succedendo Danger Quanti cazzo sono? Ente per la tutela dei pal fedeli Abbiamo andati dio E' una setta Che cazzo sono? Un gruppo religioso Sai cosa? Arco lo triplo si farà anche più frecce Però non è che sia sto gran che Fammi cambiare qua Guarda c'hanno le palestre? C'hanno Che macello è successo? Ce n'è un altro? Ce n'è dove è andato? Ancora là sotto? Ah è buggato nella rocce Vediamo se prende danno così Sì prende danno Eccolo qua Monta vai Bocca troia ma Non so chi cazzo siano questi Hanno droppato delle medicine E' un'anima di Palmedia No too bad Cioè non solo ma Erano i bracconieri Adesso ci sono pure qua Sti qua della seta I religiosi Io di là ho visto che c'è Una specie di boss Ciriletta tipo si chiama Quero andare a vedere se lo Riuscivamo a trovare Guarda dove c'è un uovo Mi chiesto un uovo Posso prenderlo? Uovo gelido E' che finchè non Se non sblocco le incubatrici E' un po' un problema Fa accumularli e basta Oddio questo cos'è? Ah è questo? Livello 11 Drago Ghiaccio 1131 Picca troia Questa merda Non so se posso catturarlo Finchè ma è ghiacciato E io smonto Eh smonto Stronza Dove la lancia qua? Merda Non ho fatto in tempo A catturarlo Punto di tecnologia Antica Eh ma è tutto vuoto Qui Incubatrice per uova C'è Tutto Nel grande schema Quindi Potevo prenderlo anche Col melpaca Delle altre volte Che ho affrontato Nel dungeon A sto punto Invece catturandolo Non l'avrei preso A sto punto Eh si Hai capito Tra con i rinnovizi Ma chi ce l'hanno questi? Soprattutto perché sono qui Cosa facevano da ste parti? Boh mistero E questo Che c'è un cadavere? Chi è sto qui? Avranno ucciso i bracconieri? Io non so che cazzo sia Dunque 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 L'incubatrice ci serve la stoffa Perché? Non lo so Ora mettiamo Allora Un dispositivo Passato un certo periodo di tempo Oh mettiamola qui Nel mentre Nel mentre Nel mentre Possiamo fare anche il mulino Mettiamo Se ne so Qua Succedere le cose dentro Da fuori Sì Ci mettiamo Uovo generico Per vedere un attimo Come funziona Che se magari C'è una chance Che Che non funzioni Sembra un po' freddo Cosa vuol dire Sembra un po' freddo? Non è quello di ghiaccio Beh vabbè E mulino fatto Mulino fatto Farina di grano Non abbiamo il grano Perché ci Ma Babababà Eccolo qua Campo di grano Mancano i semi di grano Possiamo fare invece La pentola da cucina Facciamola vicino alla fornace A questo punto Minchia Non andate sul fuoco Eccoli là Che si sono presi Geni del male Madonna Quante ricette Allo stato di rush roll Minchia Su fatto di reindrix Chi sono questi? Ah possiamo combinare le cose? Figo Ah in pratica L'arrosto con le erbe Ti aumenta del 10% La difesa Oh si è chiuso anche il coso qua F Vediamo come Cosa esce Ah ma è il pack Si forse i colori ci stavano Forse qua Allora se tanto mi da tanto È il pinguino È in condizioni ideali Ok Melpaca Melpaca Che sarà stato inserito Nel box qua Sei tu? No Questo sarà Esatto Dunque dunque Svolazzando qui In giro Finchè aspetto che si schiude l'uovo Ho visto questo forziere Che mi richiede una chiave di rame Progetto per arco antiquato Pane e denaro Che merda Arco antiquato Scusa non ce l'ho già sbloccato Non è quello base Dov'è? Eccolo qui Boh ok Contenti loro No è non comune Però Cioè scusa Che senso ha Che mi consumi Più roba Per fare Cioè per essere la stessa cosa Chi sarà Chi sarà Pengulet Sei tu? Chilet Oddio è quello di prima? È quello di prima Quello che abbiamo ucciso il boss Non sono riuscito a catturare Nice Eccolo qui Spirito artigiano Rapidità Vero Oh vordente Sarà fox Foxpark Un po' freddo Vabbè Grazie su Minchia che coglioni Manco le cose Si possono trattare Che Che Livello 12 13 14 Vai Nightwing Spaccagli il culo a tutti Che dobbiamo andare Ah la cosa qua Vai vai Poi anche casino Partito pure Sulla raggio Qua è partito Eh si sono anche baggati Ottimo E qua? Ah Questi qua si sono imboscati qui? Eh? Merdacci No 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 C'è Mamorest C'è Mamorest che ce l'ha qui mie pal Questo mi spacca da base adesso C'è Mamorest Qua è pagata πα zostano Lo ter wave E funzionare Qua è pagata